amici di smart video fotografi benvenuti finalmente in questo nuovo video nonostante il caldo ma oggi piove quindi un po di fresco lo fa è volato un po tutto però abbiamo recuperato tende e zanzariere quindi detto questo prima di continuare iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche di video che posterò sentite questo rumore sottofondo è una lavatrice quindi non ci fate caso non vi preoccupate di tutti i rumori che sentirete motorette bambini che si ammazzano perché le finestre aperte ovviamente è questo che succede in estate quassori questo accessorio l'avete visto su instagram ho postato ovviamente una foto e ho anche detto che su facebook l'ho scritto che praticamente l'ho preso perché ho visto le recensioni negative quasi tutte volevo un accessorio wireless storage per iphone perché purtroppo funziona solo per iphone diciamo per ios non funziona per android anche se sul sito c'è scritto poi parleremo anche di questo recensioni negative dove sparano a zero su questo accessorio ovviamente le persone si lamentano sempre perché giustamente se no non si sa cosa fare nella vita e io ammetto che non sia una cosa pazzesca costa meno di 40 euro ma come dico sempre ogni cosa la sua collocazione se non si può utilizzare bisogna mandarlo indietro questo non ci sono santi ma se si trova una piccola collocazione di utilizzo perché no perché non farlo vivere l'azienda che lo produce questo è l'if i bridge 64 air 64 giga l'azienda è sparita io ho visto i post che risalgono al 2019 quindi non sono più reperibili ho scritto anche su instagram ma non rispondono più chissà forse sono legati perché non funzionavano però a parte gli scherzi io ne sono contento a metà perché certe cose fanno certe cose non funzionano quindi dopo questo video deciderò se detenerlo o rispedirlo al proprietario ok quindi ora procediamo con l'apertura della scatoluzza eccola ragazzi la scatola molto carina la scatolina è fatta molto bene anche come grafica è molto carina peccato che l'accessorio funzioni così così apriamola ovviamente la possiamo possiamo estrarre tutto il nostro contenuto troviamo all'interno due foglietti uno è questo vedete che abbiamo qua praticamente proprio si vede qui aspetta che lo metto diritto si penso aspettate ok ma abbiamo proprio vedete qua abbiamo proprio android e ios ma peccato che funzioni solo per ios perché ci ho provato l'applicazione non esiste più su google è un link che non esiste più e qui abbiamo la garanzia ovviamente che ce ne facciamo poco perché non esiste più la casa come ho detto all'interno della confezione troviamo un bellissimo una bellissima gomma da mettere intorno per proteggere e anche per portare in giro il nostro gadget e abbiamo il cavo di ricarica usb c e abbiamo il nostro accessorio che si spinge con un boggio dietro si spinge ed eccolo qui eccolo qui molto carino o come ho detto prima molto carino possiamo ora infilare anche se vogliamo il nostro gommino di protezione ecco guardate che carino che peccato ragazzi è veramente un peccato che funzioni lichelacche tricaballacche vabbè comunque potete metterlo come volete questo ovviamente non c'è un senso a tutto andiamo a vedere un po' come si comporta la prima accensione e come ovviamente si comporta associato al nostro iphone o ipad a questo punto possiamo andare a scaricare l'applicazione andiamo mentre sull'apple store io l'ho già scaricata e la trovo i miei acquisti e si chiama proprio leaf vedete eccola qua non si chiama leaf non è vero ragazzi si chiama ibridge air infatti io la cercavo la cercavo su android su google store ma non c'è scarica scarica e adesso una volta scaricata la nostra applicazione possiamo lanciare 20 agganciare al nostro accessorio ragazzi andremo a vedere le diciamo le cose che possiamo fare è il limite ovviamente chi abbiamo peccato peccato allora ragazzi miei andiamo ora a accendere mettiamo l'iphone qua sotto così lo vediamo andiamo ora accendere il nostro il nostro dispositivo cliccando lungo si clicca lungo una volta 3 secondi per accendere e anche 3 secondi per spegnere la stessa cosa ora andiamo qui andiamo ad accendere ovviamente la wifi non sono abituato a usare così le cose quindi non so dove ok dovrebbe comparire qua sotto adesso il nostro leaf dovrebbe comparire tra poco non compare perché non compari maledetto non mi pare a fare brutte figure ti ho detto che non ti do indietro e tu mi fai fare queste brutte figure facciamo di nuovo così un attimino diamogli tempo perché non è che l'iphone 7 non è che sia velocissimo di suo quindi eccolo qua ok vedete questo qua ok ibridge air clicchiamo e clicchiamo e dobbiamo inserire la password ok c'è stato un lampeggiamento piccolino non l'avete visto comunque c'è stato un lampeggiamento piccolo adesso cosa possiamo fare possiamo andare ovviamente a accendere aprire la nostra applicazione per vedere che succede lanciamo l'applicazione e vedete subito che abbiamo praticamente ha riconosciuto il nostro dispositivo vediamo le quattro opzioni la prima è il trasferimento ok possiamo trasferire sia i contenuti multimediali dall'iphone al dispositivo che al contrario questa carinamente molto carina è una sorta di fotocamera videocamera che salva direttamente i contenuti sul nostro dispositivo ovviamente l'applicazione non è che sia pazzesca non ha controlli però la cosa diciamo che era nata come come salvare i dati diciamo in tempo reale sul dispositivo non era male come idea qui invece qua sotto abbiamo multimedia abbiamo tutti i contenuti che abbiamo salvato adesso noi su questo dispositivo vedete che possiamo ovviamente switchare in tutte le foto ok foto locali eccetera eccetera non si capisce bene cosa siano le foto locali se io ci clicco sopra andiamo nelle foto locali ma non ho capito bene foto locali cosa significa comunque avere tutte le foto e abbiamo ovviamente le foto sul nostro dispositivo che è la seconda voce che prendete sono le stesse sotto abbiamo invece la possibilità di switchare tra video e foto ok e abbiamo anche la musica se abbiamo memorizzato ovviamente della musica torniamo indietro e nell'ultima parte qui invece abbiamo tutte le cartelle che abbiamo creato finora all'interno del nostro dispositivo se io clicco su una di queste cartelle ovviamente vado all'interno dei miei dei miei file peccato 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 che non posso ecco la prima cosa che non posso fare caricare dei file all'interno diciamo di dispositivo utilizzando questo ok questa modalità non posso posso ovviamente accedere ai cloud in alto a destra abbiamo una sorta di opzioni vedete sopra sono le capacità dei nostri dispositivi non so perché il bridge mi da zero però lasciamo stare e abbiamo sotto delle opzioni ovviamente possiamo cambiare vedete il nome della rete possiamo fare alcune cose la password ok e sotto abbiamo anche la batteria che adesso risulta a 40% una durata media di 3 ore ecco la prima cosa che non funziona è proprio questo l'allaccio a internet se io vado qua impostazioni internet mi vengo caputato in un altro diciamo nel browser dove ho praticamente la possibilità di navigare all'interno del mio bridge ma vedete come vedete non ci sono i miei iphone che sono attivi adesso con internet nell'iphone 8 nell'iphone xs quindi questo non so se è un problema mio o un problema di questo accessorio vedremo poi quando saremo con la linea fissa se andiamo clicchiamo qua su vedete che c'è back abbiamo qua una serie di opzioni che molto facilmente sono praticamente il file che contiene tutto quello che è possibile vedere sul nostro dispositivo vedete abbiamo le cartelle quindi possiamo andare anche a spulciare le nostre cartelle ma anche qui se io vado qua non ho una sorta di più ok nel senso non posso utilizzare questo browser per andare a caricare delle cose e questa è una cosa molto brutta perché poi vi spiego il perché quindi torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro ok abbiamo ancora delle opzioni allora abbiamo queste opzioni qua abbiamo il basic setting che sono sempre riguardano sempre il collegamento al nostro diciamo accessorio ma sono gli stessi che troviamo all'interno infatti vedete la password all'interno dell'applicazione quindi niente di più abbiamo ovviamente le internet connection che non funziona se ci va dentro di nuovo vedete che non trova un piffero niente neanche il mio samsung che adesso è in modalità bridge non lo trova non so perché forse ha trovato il samsung un po vedete la nuova trova neanche non trova niente trovo una una rete si trova lì e ti vuoi solo wifi le mobile non se le fila abbiamo una advanced setting che ci permette di settare ovviamente tutte le cose l'ip eccetera eccetera vedete abbiamo anche l'ip di collegamento qua ma non ci interessa e poi abbiamo la possibilità di andare a scaricare non so dove firmware nuovo per poter caricare per poter aggiornare quindi bisognerà andare a vedere dove si scarica questo firmware comunque lasciamo perdere adesso l'applicazione diciamo e bros e torniamo nell'applicazione qui abbiamo altre informazioni informazioni sulla politica eccetera 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 che non ci interessa questo finisce qui perché non c'è niente da dire ragazzi qua andiamo indietro se clicchiamo su questa su questa ok su questo diciamo rotella che praticamente ci permette di aggiornare le cose andiamo in un'altra sezione cosa troviamo in questa sezione in questa sezione troviamo queste queste cose che riguardano il backup ok backup automatico diciamo dei nostri penso del nostro dispositivo che è connesso c'è anche il backup la possibilità di fare il backup vediamo dov'è aspettare l'ultimo backup cartella backup scusate che non mi ricordo forte verità abbiamo anche la possibilità di diciamo settare il backup come come si accende e che si collega il nostro smartphone o ipad al dispositivo lui automaticamente capisce dove è collegato non so come fa perché puoi collegarlo in 5 o 6 posti comunque e fa il backup del dispositivo detto questo detto questo andiamo a vedere la prima funzione che forse ci interessa di più questa qui come fare il backup il backup dal nostro dispositivo a diciamo dal nostro iphone al dispositivo come vedrete adesso io non sono collegato a internet quindi non ho foto in questo momento sul mio dispositivo ecco perché a parte che l'iphone 7 non ho i cloud quindi andrò a fare due scatti con l'iphone 7 per farvi vedere come si comporta ecco i cloud bisogna penso a settarlo a monte ok faccio due scatti 1 2 e facciamo anche la scatola che non è la sua ma comunque lo stesso mi faccio anch'io ok adesso ritorniamo qua e ritorniamo praticamente a vedere se ci sono adesso foto ce ne saranno sicuro ogni tanto fa questo si rallenta e praticamente non si capisce perché per entrare all'interno di foto ci sta una settimana e mezza andiamo di nuovo così ecco vedete sta elaborando adesso chissà cosa sta elaborando allora ragazzi ho sbagliato io prima non è vero che non era collegato ero io che sono al niscione quindi vabbè a parte questo cosa si fa allora a questo punto si selezionano ok e si clicca in basso per trasferirle a questo punto vedete che le sta trasferendo ok la cosa brutta che se avete ecco ci chiede anche se vogliamo mantenere o cancellare le cancelliamo adesso si elimina perché tanto non ci servono adesso quando ha finito comparirà sotto il tasto fatto noi facciamo così e andiamo a vedere qui le nostre foto che compaiono qua sotto eccole qua ok e queste sono state caricate non c'è non c'è la preview vabbè lasciamo verde vediamo se usciamo rientriamo che succede allora facciamo così ecco stanno arrivando piano piano con calma vabbè iphone 7 è un po' lento per i video è la stessa cosa ma certe volte non compaiono ovviamente i video che avete postato da un altro dispositivo questo non lo so perché perché abbiamo capito che funzionicchia così così la cosa diciamo può essere carina se facciamo così e andiamo a prendere qualche foto dai cloud non le trasferisce non so perché forse perché non è collegato ai cloud il nostro diciamo il nostro iphone attuale vedete queste qua sono tutte sui cloud c'è la nuvoletta no questi qua non sono nuvoletta vediamo un po indietro allora questi si vedete io faccio così le seleziono faccio fine vedete ok che mi dice ah no li ho messe allora non non erano ah no vedete che la prima l'ha messe le seconde no vedete che queste qui presente la seconda e la terza sono side cloud quindi non li ha messe questo non so perché perché non sono in internet perché non riesce a scaricare ma anche sulla rete diciamo wifi wifi tradizionale la dsl diciamo quello di casa o quello di ufficio non funzionava comunque a parte questo poi facciamo le conclusioni alla fine state buoni se potete fatto ok andiamo a vedere le altre funzioni la funzione che secondo è molto carina peccato che funzionicchia come funzionicchia è questa se io clicco sulla macchina fotografica ovviamente devo dargli i permessi ok vedete io posso fare uno scatto e la memorizzata avete visto il praticamente il sotto il tasto che memorizza e posso anche fare i video ovviamente video si ok ok dice di non interrompere ovviamente non spegne l'applicazione finché non c'è scritto fatto fine adesso se vado qua ritroverò scusate qua mentre ritroverò quelle vedete che io ho fatto in questo momento sono queste queste e se vado su video aspettato un attimo ok perdonatemi su video trovo il video che ho fatto in questo momento ed è che questa cosa è molto carina solamente che ovviamente la fotocamera non è che abbia tutte queste opzioni incredibili da poter utilizzare abbiamo visto diciamo il funzionamento base di questa di questa diciamo di questa di questo accessorio ma adesso vi faccio vedere quello che non va perché devo dire quelle cose che non vanno questo potrebbe essere carino se andate fuori non avete magari i cloud disponibile non avete wifi per memorizzare non avete amazon che c'è amazon essere vi dà le foto gratuite i cloud gratuito per tutte le foto che volete quindi diciamo che non avete quei servizi potete memorizzare tutto quello che c'è sul vostro smartphone su ovviamente questo accessorio ma le cose che non funzionano sono queste e sono purtroppo cose non tanto carine se io adesso andassi non ho filmic pro qua ma se adesso io andassi e vado su un'applicazione di terze parti tipo qualsiasi è una un'applicazione fotocamera un qualsiasi anche in se vado in adesso dentro file e vado dentro per dire iphone per dire così vado qui in switcher studio vado vedere se ecco se c'è qualcosa se clicco lungo sapete che possiamo condividere giusto io vado condividi ok e posso scegliere se vado qua ecco vedete c'è proprio l'applicazione vediamo cosa succede quando clicco ecco questo è una cosa purtroppo che non mi piace allora ragazzi concludendo questo accessorio può essere utile per come ho detto scaricare le foto da dispositivo se avete poca memoria se non avete disponibile amazon foto prime o icloud per liberarvi il dispositivo quando siete so non sotto copertura o non avete a disposizione un cloud l'hanno spacciato come una possibilità di diciamo utilizzarlo a posto di icloud ma non è possibile questo quindi adesso io non so se lo restituirò indietro no mi spiace perché è un accessorio molto bello da vedere come vedete è molto carino solamente che l'utilità l'unica utilità che possiamo avere è quella di utilizzarlo sì come storage nel suo nella sua applicazione come macchina fotografica avete visto che potete fotografare e praticamente memorizzare immediatamente i video o foto non ha una grande applicazione non ve l'ho fatto vedere ma non c'è niente dentro non esiste ovviamente l'esposizione non esiste a messa a fuoco non esiste nulla quindi è così com'è si potrebbe usare per i contenuti social ecco cosa gli potrebbe essere una un'idea peccato che ovviamente non ve lo fa vedere perché inutile peccato che non non può essere connesso almeno al mio mac io perché l'avevo preso ho preso perché nella mia ingenuità ha detto prendo questo per android e per iphone lo collego ad android ci scarico le foto e poi su iphone mi scarico ipad i video le foto non possiamo utilizzarlo con android assolutamente non è possibile perché giustamente non abbiamo il tasto più per fare un upgrade e questa è una cosa molto molto negativa peccato quindi a voi la conclusione intanto vi invito a scrivere al canale se non avete ancora fatto e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò a voi tirate le conclusioni nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate se è possibile utilizzarlo in questa maniera come vi ho detto solamente per memorizzare foto e video dal vostro dispositivo appunto e basta non possiamo farci più nulla non possiamo usare neanche col mac che io ho provato niente non funziona quindi non si collega quindi cosa ne possiamo fare la finestra comunque dai ragazzi detto questo vi ringrazio e vi mando al prossimo video ciao sono gennaio creatore di contenuti esclusivamente dei dispositivi mobile sul mio canale youtube smart video fotografi potrai imparare a fotografare girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo offre formazione anche online ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo instagram ciao a presto